Sono due le offerte pervenute all'ufficio protocollo del comune di Riva alla scadenza dei termini del bando pubblico per l'aggiudicazione di parte del compendio del villino Campi, che nell'intento della giunta Mosaner dovrà diventare un nuovo punto di aggregazione e di offerta sia per i residenti che per i turisti. Le offerte portano le firme della società Ice & Ice SRL di Michele Matassoni e della Joching Bar SAS di Burim Kosovrasti, volti peraltro noti nel mondo commerciale della ristorazione locale. Michele Matassoni ha gestito sino all'ottobre scorso il bar dei Pini in Porfina. Burim Kosovrasti è il socio accomandatario della Joching Bar SAS che gestisce il vecchio porto in Piazza Catena. L'asta però è stata sospesa e riviata di una decina di giorni in quanto in entrambe le offerte mancava una parte di documentazione comunque regolarizzabile. Negli spazi al pian terreno e nel plateattico di 85 metri quadri di Villino Campi troverà posto un caffè, una pasticceria o una gelateria, comunque un'offerta che non entra in concorrenza con i vicini poli ai sabbioni e in Porfina.